Musica Festeggia 120 anni di storia il marchio inglese Dax e lo fa con un in-house-house-check un vero omaggio all'iconografia anglosassone per eccellenza Io cerco di portare nel marchio, ad ogni stagione, ad ogni sfilata, il marchio che rappresento, quel sapore inglese per cui per cui è quello che devo fare, mi è stato richiesto la proprietà, lo faccio volentieri ed è anche una sfida perché io sono molto italiano quindi per me è una notevole ricerca che faccio a monte di tutto quello che è veramente inglese, ovviamente con il twist italiano Ecco la giacca che ricorda quella delle guardie e della regina al parca ribelle in tessuto cammello e pantaloni di equitazione proposti nel più classico dei tessuti inglesi, il principe di Calles Ma la sera è rock, come la musica, che accompagna la sfilata I colori sono quelli che rappresentano, che compongono il check, quindi il bordeaux, il nero, il cammello è una nota di verde militare che credo sia, almeno per quanto mi riguarda, credo che sia il colore di tendenza della nuova stagione con degli accessori oro che sono tipo i pantaloni, le fibbie, i bottoni, le coppole, le scarpe questo è l'elemento secondo me musica rock della collezione Grazie a tutti Grazie a tutti